Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ogni martedì Piemonte dal vivo ci fa scoprire spettacoli in giro per il Piemonte. Allora vi porto al Teatro Sociale di Pinerolo e anche al Teatro Marenco di Novi Ligure. In scena quest'oggi e domani il Nodo con Ambrangiolini e Arianna Scommegna che abbiamo in linea. Ciao Arianna, benvenuta su GRP. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Allora, in scena con questo spettacolo che è di un'attualità estrema perché si parla di bullismo, si parla di una mamma e di un insegnante che di solito nella vita, come dire, si scontrano perché è sempre colpa dell'insegnante oppure l'insegnante dice sempre colpa della mamma, vero? Sì, diciamo che proprio questo spettacolo è proprio l'ora dell'incontro fra queste due entità che sono poi la scuola e la famiglia che si scontrano perché fanno vedere, evidenziano proprio quello che è forse uno dei problemi più difficili oggi che poi subiscono i ragazzi perché l'assenza di un grande dialogo tra l'istituzione scuola e l'istituzione famiglia spesso proprio crea quel banco vuoto che purtroppo i ragazzi subiscono. Poi dopo questi anni di pandemia i problemi sono sempre più complicati e più difficili. La solitudine dei ragazzi va veramente ascoltata in maniera diversa, bisogna tirare fuori degli strumenti, gli adulti devono veramente elaborare. Infatti ti dico, durante lo spettacolo c'è un silenzio che senti proprio i pensieri del pubblico che vive quello che stanno vivendo le due attrici sul palco, lo vivono insieme perché è un problema molto sentito. Ma anche perché secondo me, insomma, in sala c'è una madre o un padre che va a colloquio con l'insegnante e che magari può vivere queste cose. Sì, ci sono molti insegnanti tra il pubblico, ci sono genitori, ma anche se non sei genitore in qualche modo magari hai un nipote o un fratello. Anche perché, ricordiamo, lo spettacolo inizia così, c'è una mamma che va a colloquio con un insegnante e lì si scopre che il suo bambino è vittima forse di bullismo. Forse, dico, perché magari è lui il bullo stesso, chi lo sa. Diciamo, allora, il tema del bullismo è come se fosse la punta dell'iceberg. Il problema più grosso è proprio l'assenza di questo dialogo, l'incapacità di ascoltare. Cioè, quello che è più forte è questo. Abbiamo bisogno di dedicare del tempo e il tempo è una cosa preziosissima perché vuol dire anche stare in silenzio ad ascoltare, vuol dire aspettare, vuol dire dare spazio. Sono tutte cose che in un mondo egotico e così asfissiante di informazioni, di cose da fare, di problemi, a volte anche autocreati, non c'è spazio. Certo. E sono d'accordo. È un bel messaggio anche oltre, insomma, a quello che viene lanciato appunto durante lo spettacolo. Il nodo questa sera a Pinerola al Teatro Sociale, domani a Novi Ligure al Teatro Marenco. Insomma, io ringrazio ovviamente Arianna Scommegna per essere stata con noi e ringrazio Piemonte dal vivo. Grazie, grazie a voi. A presto, ciao, 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 ciao.